Immaginiamo soltanto per un istante che la nostra vita non sia all'altezza delle nostre aspettative e soprattutto del nostro potenziale. Può essere in ambito professionale, magari riteniamo di meritare uno stipendio più elevato, oppure un ruolo aziendale più importante. Oppure può essere in ambito personale, magari vogliamo essere dei genitori migliori, oppure avere delle relazioni più gratificanti. Quando ci ritroviamo in queste situazioni tendiamo ad agire in due modalità. Nel primo caso procediamo con il fai da te. Quando siamo in libreria andiamo alla ricerca di quei libri con la speranza di trovare la soluzione al nostro problema. Iniziamo a leggerli e poi ad un certo punto ci propongono degli esercizi. E noi cosa facciamo? Beh andiamo avanti, tanto non sarà così importante. Nella migliore delle ipotesi leggiamo completamente il libro, ma poi scopriamo che non c'è nessun segreto. Allora svoltiamo ed andiamo su internet, dove troviamo centinaia di guru che vogliono spiegarci come avere una vita super felice da un punto di vista personale, professionale, finanziario, relazionale. A parte pochissime eccezioni, che forse possiamo contare sulle dita di una mano, proviamo a chiedergli se hanno una casa di proprietà comprata con i soldi propri e senza mutuo. Oppure proviamo a chiedergli se ne hanno due, o magari tre, o magari quattro. E visto che vogliono spiegarci come avere una relazione gratificante, proviamo a chiedergli se loro ne hanno una, che magari dura da 10 anni, da 20, o magari da 30. Se facciamo queste ricerche scopriremo che non rimane nessuno, a parte quelle poche eccezioni che ho citato prima. Nel frattempo però noi continuiamo a procedere con il fai-da-te. In pratica procediamo per tentativi, per poi scoprire però che questo approccio non funziona. Perché cercare di risolvere un problema dall'interno è come cercare un ago nel bagliaio, è come tentare di uscire da un labirinto senza avere una visione dall'alto. Allora molti di noi iniziano a confidarsi con il proprio amico o collega, il quale inizia a sciorinarci l'elenco dei dovresti, dei potresti, dovresti fare così, potresti fare cosa. Ma anche i consigli degli amici, per quanto generosi, non producono l'effetto desiderato. A questo punto la frustrazione inizia a prendere il sopravento. Iniziamo a convincerci che forse non abbiamo bisogno di vivere una vita migliore. D'altronde, se ci guardiamo intorno, è pieno di gente che sta male, che vive peggio di noi. Oppure la percezione di valere di più potrebbe essere soltanto una nostra illusione. Insomma, iniziamo ad accettare l'idea che dobbiamo accontentarci e rinunciare alle nostre ambizioni. A questo punto è giunto il momento di chiederci come procedono quegli altri che accantonano l'idea del fai da te. È semplicissimo, hanno l'umiltà di farsi affiancare da un allenatore del potenziale umano. Molte volte può essere un mentore, oppure un consulente, oppure un trainer individuale. Magari qualcuno che svolge questa professione da 30 anni. Non nego che si possa riuscire a vivere una vita all'altezza del proprio potenziale anche procedendo da soli. Il problema è soltanto il tempo, perché noi abbiamo un'unica certezza. La nostra vita è estremamente limitata. Potersi permettere un coach professionista non è un problema di costi. Tutti se lo possono permettere. È soltanto un fatto di scelte.